Non pensavo di fare il giornalista, pensavo di restare nel mondo dello sport. Io sinceramente sono un istintivo, quello che dico in telecronaca mi viene al momento, come lo dicono un po' tutti, che a risentirsi si odia la propria voce. Per far andare due macchine lavorano 600 ingegneri. 600 ingegneri. Ha coniato termini iconici come Fuchsia e diffuso un soprannome famosissimo come Il Predestinato. Voce narrante di Sky Sport F1 in Italia, Carlo Vanzini qui con noi a Cantera Masterclass. Buona visione. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video della Cantera. Oggi qui con noi uno dei telecronisti più amati di tutta Italia, voce principale della Formula 1, Carlo Vanzini. Ciao, grazie per l'amato. Non sempre. No, da noi sì, almeno. Va bene, grazie. Cominciamo con gli altri ospiti dalle tue origini, ovvero sappiamo che hai fatto telecronache anche di altri sport, tra i quali lo sci di cui sei un grande appassionato e quindi come ti è nata la passione per le telecronache prima dello sci e poi per la Formula 1? Allora, intanto non stavo mai zitto, nel senso quando giocavo a calcio con gli amici, mi veniva sempre a fare la telecronaca, guardavo qualcosa di sport, non so, mi veniva quasi naturale. Ma non ho mai pensato di fare il telecronista. Io sciavo, facevo lo sciatore come atleta fino a 21-22 anni, non pensavo di fare il giornalista, pensavo di restare nel mondo dello sport. Obiettivo restare nel mondo dello sport. Poi casualmente mi è capitato di invece entrare a lavorare per un giornale tramite lo sci, tramite delle prove di materiali che andavo a fare per questo giornale. Chiacchierando mi hanno chiesto di fare un articolo, ho fatto un articolo, peraltro la mamma di Federica Brignone, la lasciatrice super campionessa, faccio un articolo, bello, piace a lei l'articolo, piace a me scrivere l'articolo, inizio a lavorare lasciando il posto fisso che avevo per 2 milioni di lire, calma ragazzi, 2 milioni di lire al mese per andare a prenderne 500 mila al mese, che non mi restavano perché poi compro il computer, compro le cose, però poi da lì ho investito su quel mondo lì, ho fatto tantissime cose, dalla radio ai giornali, poi la televisione sempre proponendomi, proponendo anche a Telepiu potremmo fare questo, mi hanno preso, e poi con la radio c'è stato il passaggio alla Formula 1, della quale ero già super appassionato, mi hanno chiesto, visto che tu segui l'invernale, puoi seguire l'estivo, e ho detto sì ragazzi, sempre dire sì comunque, e siccome era comunque una grande passione, la mia grande passione, mi sono trovato catapultato in questo mondo, e poi con Sky sono arrivato a fare il telecronista, e sono 350 gran premi commentati tra radio e tv. Il primo qual è stato? Il primo in assoluto è stata la prima gara del 98, ma la prima gara in presenza in assoluto è stata in Argentina, 1998, con vittoria di Schumacher, con un aneddoto piccolissimo legato a questo gran premio, perché io lavoravo per RTL, Schumacher vince la gara, ai tempi non era tutto così ben organizzato come adesso, il pilota dove coio coio, dove lo prendevi e andavi a intervistarlo, e mi dicono guarda finita la gara, Schumacher scende da una scala, dietro finita la conferenza stampa, scende da quella scala, lo beccate lì, io vado, passo in mezzo a due camion, vedevo dove era questa scala, passo in mezzo a due camion, mi trovo un muro di gente davanti, ho detto no, la mia prima Schumacher, poi per la radio era relativo perché ti servivano più voci italiane, però insomma sei lì e arriva Schumacher con la sua detta stampa Stefania, che dice, Schumacher aveva un accordo con RTL Germania, e dice prima RTL, prima di fare le interviste, allora io ho detto RTL, 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 RTL e sono arrivato davanti a intervistare Schumacher, sapendo che non stava chiamando me ovviamente, però ero un po' sgamato, arrogante, ero giovane, quindi si fa. Quanto pare ha funzionato, Sì, 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 non mi hanno cacciato indietro, ho fatto la mia intervista insieme alla RAI, insieme a Stella Bruno subito, che mi guardava un po' come, chi è questo? Sceso dalla luna. All'inizio magari ti è capitato di risentire le tue telecronache? Sì, o alle radiocronache all'inizio, oppure quello che facevo in televisione, ho sempre odiato la mia voce, nel senso che credo sia abbastanza un classico, almeno lo dicono un po' tutti, che a risentirsi si odia la propria voce, ed è così anche oggi. Ogni tanto o arrivo in ufficio, o arrivo a casa, stanno guardando il Gran Premio, chiedo di abbassare perché non mi piace. Anche fine Gran Premio, quando finiamo nel nostro ufficio, abbiamo sempre già la replica del Gran Premio in onda, e chiedo sempre di abbassare. Mi vado a rivedere laddove c'è qualcosa da rivedere, magari ti dicono, hai detto questo, magari c'è un team arrabbiato perché hai detto una cosa, allora vado a risentirmelo. Non risento generalmente per gli errori, perché penso già di valutarli mentre sbaglio. Io mi rendo conto quando sono in telecronaca, quando sbaglio, e quindi già ragiono mentre sono in telecronaca, e mi dispiace. Questo è anche un limite, perché esci quasi sempre più arrabbiato per l'errore piccolo o grande che hai fatto, perché l'errore c'è sempre. a volte magari riesci a uscire soddisfatto, però è un limite perché non sei quasi mai contento, però è un vantaggio perché lavori sempre su te stesso, e riesci a riconoscere anche dove puoi migliorare, che possono essere aspetti di regolamento, come raccontare una cosa, o sullo studiare determinate cose legate magari anche al paesaggio, alla città, ai piloti. Parlavi di errori e guardare da casa a commentare sembra facile, perché abbiamo solo una colonnina da sinistra, vediamo solo l'azione in pista, però ho visto qualche video di te che commenti, insomma, nella cabina di commento, e ho visto quanti dati avete. Quanto è difficile tenere tutto sotto controllo per cercare di avere una visione più completa possibile della gara? Intanto ci sono tanti a casa, ho visto delle postazioni, averla una postazione così. Intanto una delle cose più difficili è che per assurdo noi abbiamo dei monitor che sono buoni, ma non sono così grandi e con grande qualità per poter vedere bene tutto come uno a casa che magari ha un televisore molto grande. I monitor sono uno, due, tre, quattro, cinque, sei, la gara, il banalissimo monitor dei tempi, un monitor un po' più complesso dove ci sono le gomme, il GPS, il segnale che Sky manda in onda, quindi dove c'è un'integrazione quando va in onda. Matteo Bobbi io lo vedo da quello schermo e poi uno schermo con tutte le on-board, più il computer, computer perché ad esempio il monitor che ci danno non ci dà la vita delle gomme, allora computer con, pagando l'app, tu pensa, l'app di Formula 1 per vedere la vita delle gomme, poi computer per cercare le cose che ti servono anche durante la telecronica e su questo bisogna anche essere molto attivi, nel senso magari ti inquadrano un personaggio e tu vai subito a cercare, a googolare e ti esce, che ne so, ha fatto il film La Vendetta, boom, ah la vendetta, chissà se sei qui a vedere la vendetta ti fa gioco, ti serve, però devi essere molto reattivo se no il tempo passa. La cosa più difficile è la gara si guarda sul monitor dei tempi, noi guardiamo il monitor dei tempi, poi guardi quando c'è azione, quando sono vicini, guardando il monitor dei tempi a volte rischi di perderti uno che esce o qualcosa che succede nella realtà, quindi devi guardare un po' entrambi i monitor ed è la difficoltà più grossa. Per il resto, poi con la squadra, Mark guarda più gli on board, per il resto siamo abbastanza ben distribuiti per riuscire a monitorare quasi tutto, quasi tutto, la perfezione non esiste se fosse così saremmo così contenti ogni giorno di riniziare a fare questo lavoro. Io faccio una domanda, perché hai la maglietta super fucsia nel settore centrale? Questa l'ho presa nel 2019 dopo le qualifiche in Bahrain, ho detto guarda portafortuna, poi in realtà non è che abbia portato così. Vabbè, ci ha messo un attimo a innescarsi la maglietta, vero bene, però dai, poi ha vinto quell'anno. Sì, però quella gara... Adesso sappiamo la colpa di chi è di quel motore saltato. Va bene. E a proposito di Leclerc e Fucsia, sappiamo che negli ultimi anni si è diventato molto virale proprio per le tue telecronache sulle vittorie di Leclerc, sulle qualifiche con il famoso Fucsia e come hai vissuto questa viralità che magari fino a 5-6 anni fa non avevi? Allora, da un certo punto di vista è bello, divertente, vedere anche come vengono utilizzate certe frasi su certi video, a volte su problemi escono dei video che sono eccezionali, oppure quello del sorpasso di Leclerc dentro Charles. A volte qualcuno esagia, mi manda il video, guarda, però fa il video, la linea continua, non puoi superare, non si possono postare quei video lì. Quindi, da un certo punto di vista è molto divertente. Dall'altro, a volte mi chiedo nel dire quello che dicevo che è diventato virale sui social, a ridirlo adesso se non riesco a diventare una macchietta, nel senso che vado in telecronaca a dire una cosa di Instagram, no? si rigira. Quindi questa cosa me la chiedo, poi io sinceramente sono un istintivo, quello che dico in telecronaca mi viene al momento, mi viene al momento, infatti a volte mi pento, però sono molto istintivo su questo, vado molto sull'emotività del momento e quindi poi non ci penso più, ad esempio, l'ultimo giro di Leclerc a Monza chiaramente ti prepari, sai che può vincere, quindi guardi le statistiche, prepari un po' di cose, avevo preparato, prepari un discorso tra virgolette, come se vince cosa dico alla fine, quindi ci pensi, ci ragioni, te lo ripeti più volte, poi io se non scrivo subito mi dimentico e dopo dieci minuti dico era così bello non me lo ricordo, però ecco, quando è arrivato poco prima di arrivare alla Scari, lì invece mi è partita quella cosa di quando ci siamo visti mercoledì che appena è arrivato mi ha chiesto quanti hanno vinto la seconda dopo aver vinto la prima e mi è partito così di getto quella lì, poi l'ho portata avanti fino al traguardo perché poi la difficoltà è che ti parte una cosa e devi arrivare al momento del traguardo, quindi è questo insomma il passaggio però fa ovviamente piacere vedere perché è un modo credo per avvicinare i giovani un po' tutti a noi perché alla fine noi siamo delle persone normalissime ci divertiamo come tutti a seguire o fare qualcosa sui social a volte sinceramente il social lo stacco nel momento in cui invece vedi che su certe discussioni anche se tu spieghi guardate che è grigio guarda è grigio no è bianco no è nero e allora lì in quel momento ti stacchi un attimo perché hai bisogno di respirare un po' sì soprattutto voi che siete esposti a tutta Italia logicamente prendo ad esempio la questione famosissima Hamilton Verstappen qualsiasi esposizione da una parte o dall'altra avrebbe creato polemiche quindi no ma su quella su quella ad esempio ma su tante altre situazioni in qualsiasi momento sei cioè ti metti in una condizione dove il social cosa vuole vuole o darti ragione o darti del pagliaccio quindi è difficile trovare in certi momenti soprattutto quelli più caldi la riflessione la riflessione su cosa è successo perché è successo come si è innescato e quindi lì diventa un po' complicato quindi se dai ragione alla Mercedes sei tifoso di Hamilton se dai ragione alla Red Bull ma come fai se ti partono le faccine di pagliaccio però lo vedi anche nella storia della Formula 1 allora Verstappen super odiato dai tifosi della Ferrari perché nella posizione in cui era si trovava sempre a battagliare con i piloti Ferrari quindi speronate poi quella volta che ha detto sono contento loro hanno rovinato la mia gara quindi sono contento che la loro gara sia finita che ho rovinato la loro quindi situazioni un po' particolari la Ferrari ha smesso di barare sul discorso del motore lì aveva anche ragione quindi super odiato poi va contro Hamilton e diventa super amato da tutti quelli che lo super odiavano prima poi si torna a super odiarlo perché è contro la Ferrari adesso adesso si inizia a dire è per forza la macchina migliore è per forza è protetto dalla federazione e tante cose quello che si diceva di Hamilton quello che magari in Italia non si diceva di Schumacher ma era assolutamente la stessa cosa con gare noiosissime allora ma vinceva la Ferrari quindi andava bene a tutti quindi è un po' così poi bisogna trovare un po' la serenità nel commentare un consiglio che mi sento di dare è che noi per primi io ho preso tanti ragazzi tra virgolette dalla strada nel senso ho preso tanti ragazzi come voi giovani anche a lavorare con noi perché o perché hanno proposto delle cose interessanti o perché hanno fatto vedere che hanno qualche talento quando si può cerchiamo di coinvolgere delle persone nuove nei limiti ovviamente che abbiamo e una prima cosa che vai a vedere sono i profili i profili e quindi quando vedi magari che uno passa la giornata a dare del pagliaccio a Manzini del pagliaccio poi il giorno dopo a quelli del grande fratello del pagliaccio ai politici dicevo aspetta questo forse non è sulla strada giusta oppure mi è successo anche di avere un contatto con un ragazzo che aveva un'ottima visione tecnica aveva veramente scriveva degli art pur non essendo mai andato in pista aveva un bellissimo occhio per la tecnica però cosa faceva scriveva gli articoli dicendo al contrario di quelli lì di Sky vi dico che ah c'è senza fare il nome grande personaggio di tecnica della storia della formula 1 ah continua a dire cazzate si può dire si continua a dire cazzate perché vi spiego io io l'ho chiamato e gli ho detto scusa ma fai una cosa ma tu scrivi il tuo artico perché devi dimostrare una gelosia o cosa perché non sei in pista cos'è che ti manca e no però hai iniziato a scrivere quello che doveva scrivere e hai iniziato a lavorare con noi quindi quando c'è del buono comunque al di là del mettere le faccine pagliacci sta anche a me capita ogni tanto ho un profilo finto dove metto un sacco di no scherzo non è vero non è vero non è vero qualcuno ha profili finti che conosco che mi mettono del pagliaccio però so chi sono ma non mi interessa Marc Genet Marc mai visto questo qualche aneddoto invece che ti è successo durante una telecronica divertente allora quello un po' meno divertente in Ungheria che ero ero veramente al limite del problema fisiologico cioè dovevo andare a farla pipì solo che mancava ancora tipo 40 minuti alla fine della gara e sai quando entri nella condizione che no non ce la faccio no non ce la faccio ed era allora commentavo con Tarquin era il 2007 l'anno del mondiale di Raikkonen vabbè lì che cosa fai o esci io ho iniziato ho fatto molta radio all'inizio per quello anche ho questa parlantina qui e nella radio ogni volta che lasci un buco di un secondo sembra che stai zitto per un'ora e questo me lo porta un po' dietro adesso ho imparato imparato forse no però qualche volta mi quieto un po' di più allora lì avevo il terrore ho iniziato a pensare dove è il bagno al bagno ci metto almeno 5 minuti 6 minuti ma non riuscivo più è veramente e va bene ho fatto ho preso una bottiglia l'ho tagliata e mi sono girato e ho detto Gabriele scusa è stato un momento di necessità intanto continuavo anche a parlare però insomma quella è una cosa che è successa in postazione poi altre volte e lì impari anche a gestire le situazioni mi è successo la prima telecronica di sci un collega mi chiama per farmi con il quale ho lavorato già prima mi chiama per farmi bocca al lupo buon lavoro faccio le telecroniche di sci per stream anno 2000 e mi dice bocca al lupo buon lavoro sei pronto a tutto e faccio sì sì erano delle gare americane che commentavo da Milano faccio sì più o meno poi il mio sport in quel momento conoscevo benissimo tutti gli atleti che erano in pista quindi per me era veramente quasi una passeggiata e mi dice ma se poi ad esempio ti vanno via i tempi sul monitor come fai? speriamo che non succeda come è successo? prima gara che commento sono andati via i tempi dal monitor allora non era come oggi che hai live timing che hai instagram dove magari non era così semplice forse non c'era ancora neanche whatsapp nel 2000 forse no e quindi mando inizio a scrivere a chi sapevo messaggino a chi sapevo che era là in quegli anni avere un telefono tuo là ti costava un sacco di soldi sia a mandare messaggi che a telefonare e quant'altro speriamo che mi leggano mando messaggino mi aiuti con i tempi dall'altra parte guardavo la reazione dell'atleta quindi scende il primo fa così dico ma non mi sembra molto soddisfatto non abbiamo ancora i riferimenti cronometrici però non mi sembra molto soddisfatto scende il secondo che fa segno che lui è davanti così più o meno i primi 3 o 4 li ho presi poi iniziano a arrivarmi i tempi con leggero ritardo e lì sai comunque era la mia prima telecronaca però ecco io ho un po' questa cosa di prenderla per come via cioè se posso fare una cosa la faccio se non posso farla mi adeguo e faccio quello che riesco a fare non mi arrabbio non mi arrabbio e cerco di reagire cerco sempre di trovare la soluzione a un problema che non posso risolvere ma che devo affrontare anche perché poi queste cose ti fanno crescere si ti fanno crescere fanno tutta esperienza ma anche oggi a volte ti capita ti va via la voce cosa fai a volte ci ricordiamo per delle cose che succedono che non abbiamo pensato prima di preparare un'alternativa l'anno scorso è saltata la postazione di commento quindi ha preso la linea Matteo ha iniziato lui a raccontare però è stato tutto improvvisato allora quando sono tornato essendo anche responsabile del progetto della Formula 1 ho fatto un piano che avevamo già ma avevamo un po' accantonato perché non era mai più successo niente e abbiamo rifatto un piano di strategia nel caso in cui abbiamo messo tutte le opzioni poi sicuramente arriverà un'opzione diversa che ci costringerà a rivedere e a fare di nuovo un piano poi per dire un altro aneddoto è legato all'unica volta che sono arrivato in ritardo in postazione di commento su 350 vuol dire prove libere due sessioni di prove libere vuol dire prove libere al sabato vuol dire la qualifica il sabato e la domenica su 350 solo una volta sono arrivato in postazione di commento in ritardo perché ero in Bahrain ero tranquillo tranquillo a chiacchierare nel paddock poi guardo l'ora faccio così mancava un minuto e da lì dovevo correre con 40 gradi sotto la pista fare il tunnel salire prendere l'ascensore dall'altra parte sono arrivato con 5-6 minuti di ritardo ho detto stavo cercando una notizia dovevo assolutamente prima andare in onda era anche vero dovevo subito confrontarmi e quindi scusate però però ti viene veramente l'ansia del ritardo lì io sono uno che arriva sempre all'ultimo però all'ultimo preciso cioè non mi piace andar lì troppo prima mi piace arrivare o per dire a volte sono lì prima mezz'ora prima sì sicuramente sono anche mezz'ora prima in postazione mi leggo un po' di cose poi quando mancano sette minuti al via del Gran Premio vado a prendermi il caffè vado a fare l'ultimo pit stop poi mentre sono al pit stop guardo ancora 30 secondi 29-28 calcolo 25 se arrivo cioè Roberto magari e Marco mi dicono dove erano? ti stanno chiamando ti stanno chiamando però sanno che che arrivo sì tipo io quando metto la formazione a fantacalce dalla mattina che apro l'app ma la formazione mi ha detto due minuti prima è così e parlando di imprevisti o di insomma soluzioni per cercare di soperire a queste situazioni hai dovuto improvvisare tanto nella tua carriera e quindi ti capita mai di avere comunque paura di non sapere cosa dire non mi riferisco magari a una gara come Abu Dhabi 2021 Germania 2019 però hai fatto i test invernali per diversi anni otto ore di diretta può capitare che non ci sia qualcosa da dire sì non mi sono mai posto il problema per dire abbiamo fatto anche 24 ore di live su una 24 ore di Le Mans virtuale e abbiamo fatto la sfida con Matteo di vedere chi crolla per primo lui è crollato dopo 16 ore e io un minuto dopo sono andato a dormire tanto ho vinto è rimasto Kinkeros e fatto 24 ore di Le Mans quello no non mi preoccupa non aver cose da dire mi preoccupa di più se non vengo aiutato dalla squadra ogni tanto mi apro e dico scusate qualcuno mi dà una mano quando avevamo le prove al venerdì da 90 minuti l'una e spesso per pioggia non giravano per 90 minuti per questioni di di gomme magari non giravano per 30 minuti e li devi riempire in qualche modo quindi sicuramente ci prepariamo le interviste ci prepariamo qualcuno dice ma perché ogni tanto dobbiamo fare qualcosa di diverso se no che cosa raccontiamo e ogni tanto chiedo di aiutarmi ogni tanto mi apro con la regia ho un tastino chiudo la diretta apro la regia e mi date una mano Mara può intervistare qualcuno Mara può intervenire di più perché magari arrivo capisco che sto arrivando a un punto in cui non ho non ho più argomenti però sono abbastanza tranquillo perché mi piace cioè io sono uno che parla poco in giro però quando sono lì invece parlo troppo e quindi gli argomenti si trovano è anche bello cercarli poi abbiamo una dimensione diversa ad esempio dalle prove libere a quando va in gara sono certe cose anche più leggere che facciamo sicuramente durante le prove libere quando va in gara diventa gara quindi per me parlare di turismo della località del dove ci troviamo quelle parti lì il momento della gara anche perché ne abbiamo parlato tanto prima lì non me la sento cioè lì mi piace guardare il monitor dei tempi e essere focalizzato su quello che succede in gara poi ogni tanto quando vedi che non sai più cosa dire vai sul mercato ma è vera questa cosa Roberto allora apri delle parentesi su argomenti che abbiamo trattato nel corso del weekend o che sono interessanti perché speri intanto che si riaccenda qualcosa poi guardi come dicevo il monitor dei tempi e guardi là dove vedi uno che migliora uno che fa un fucsia uno che cambia la gomma allora guardiamo tutti quello che appena ha cambiato la gomma che tempi fa e quindi passi 5 minuti a vedere se quello con la gomma bianca va forte oppure no quindi è un po' mestiere un po' tra virgolette talento perché questa cosa o ce l'hai o non ce l'hai perché rischi veramente a volte di arriarli mamma mia adesso faccio un altro esempio velocissimo a volte ci sono le sospensioni come in Belgio abbiamo fatto quattro ore credo più o meno di nulla di nulla in tanti lì cosa farebbero riempitivo riempitivo è quando dici trova un qualcosa da mezz'ora e mettilo dentro una storia che ne so l'abbiamo già pronto recuperiamo la storia di Lauda ok dai vi lasciamo la storia di Lauda poi torniamo invece a noi piace comunque uno spazio secondo me non solo di sport ma anche di intrattenimento e io credo che siamo riusciti a ottenere il fatto che qualcuno ci segue non solo per seguire la Formula 1 ma perché ha piacere di passare del tempo con noi Marc Genè arrivate da due background differenti però sembrate in telecronica in sintonia totale e si riconosce anche tanto il fatto che comunque vi trovate bene spesso uscite con delle frasi proprio da coppia come nasce questa sintonia tra te e Marc? Marc è abbastanza naturale uno perché è una persona straordinaria non è nel nostro lavoro come in altri lavori simili c'è molto egocentrismo perché c'è l'egocentrismo vai in onda vai in diretta la gente ti riconosce ti scrive e quindi è una brutta bestia da combattere cioè devi capire ed è quello che io ripeto sempre attenzione noi non siamo in onda perché per far vedere la nostra faccia siamo in onda per far vedere se andiamo lì è perché siamo lì per far vedere cosa c'è lì perché per farci vedere possiamo stare a Milano non cambia niente e Marc invece tu da questa parte qua della visibilità delle cose lui ha solo il piacere di veramente una grande emozione appassionato di quello che vede quello che racconta poi chiaramente ha una divisa Ferrari quindi è più a difesa strenua della Ferrari poi ogni tanto lo metto in difficoltà oppure gli dico Marco allora su questa cosa non intervenire ci pensiamo ma è una cosa normale perché lui è uno del membro è uno del team Ferrari da un punto di vista personale ci troviamo benissimo abbiamo questa interazione che per me è perfetta anche come voci come differenza anche come ritmo quindi è anche una una sintonia difficile da trovare perché a volte magari ti trovi a commentare con qualcuno che ha il tuo stesso timbro di voce il tuo stesso ritmo poi ci sono cose basilari di non interrompersi di non parlarsi sopra di non ecco la contraddizione cercare di evitarla sicuramente magari io dico una stupidata non entrare subito a dire no guarda se la dici al volo che ti fermano subito e dici no guarda Carlo che però allora non entri al volo in gamba tesa ma trovi un modo per non darti contro perché soprattutto se la dici al volo ah vedi che Marco gliel'ha detto o viceversa anche e allora magari fai segno al monitor a me succede a volte a marchi dico guarda che è questo qua o guarda che ha la gomma così perché magari sta dicendo una cosa che non è non è corretta però siamo assolutamente in simbiosi ma anche con con Roberto con con Matteo siamo tutti molto diversi e questo ci aiuta magari a sia a fare un gruppo che è ben voluto perché se non non ti piaccio io c'è Valsecchi o se non ti piace Valsecchi c'è Roberto se non ti piace Roberto c'è Matteo c'è Federica c'è Mara quindi siamo molto diversi e bene o male pensiamo di di poter piacere come gruppo oppure individualmente qualcuno ti piace questo gruppo se stiamo tutti antipatici sicuramente non so cosa dirti io vorrei chiederti una cosa sull'exploit della Formula 1 perché anche io la salgo da recente diciamo però è oggettivo comunque a livello di dati di sharing che sia uno sport fresco nel senso che è seguito veramente tanto da veramente poco tra virgolette e volevo chiederti secondo te a cosa è dovuto ad esempio può essere l'investimento di Sky nei dettagli può essere il commentatore che fa appassionare può essere l'evoluzione dei social media magari dei content creator che spingono questa attività e volevo chiederti anche in percentuale quanto secondo te il fattore Hamilton in Verstappen del 2021 ha contribuito a creare hype intorno a questo sport quello tanto quasi allora tanto perché il vecchio leone contro il giovane leone è stato proprio uno scontro tra leoni e per il territorio più come è andata quella stagione più gli scontri che hanno avuto più arrivare alla fine gara a pari punti quindi questo fa hype tutti ne parlano tutti scrivono io vedo una cosa che nel bene o nel male tantissimi commentano la formula 1 e questo fa creare attenzione nei confronti di uno sport che magari uno non guarda e dice però arbitrina ha detto allora io domenica me la guardo la gara è un po' così poi noi ad esempio abbiamo avuto come obiettivo proprio che ci siamo posti era quello di abbassare l'età media della formula 1 che in quel periodo era intorno ai 55-60 anni e siamo arrivati ad avere un'età media adesso dei 35 anni che vuol dire che andiamo a coinvolgere di fatto un po' tutte le generazioni abbiamo riacceso ce lo dicono genitori che non guardavano più la formula 1 il piacere di vedersela con i figli o il figlio che dice che bello me la vedo col nonno quindi andiamo a colpire un po' tutte le generazioni poi c'è il tifoso quello che si sente purista che è un po' la puzza sotto il naso che dice ah questi tifosi della domenica poi c'è il tifoso della domenica che commenta solo perché Sainz viene penalizzato e quell'altro no poi se tu gli dici ma prova a mettere al contrario se fosse stato Leclerc con Sainz messo fuori così come la vedi allora devi un attimo ragionare quindi secondo me è bello che tutti mi dispiace quando c'è gente che da contro ah tu sei arrivato solo oggi succede anche a me quando ne dicono magari parlo di calcio mi dico ma tu parla di Formula 1 cosa ne sai di calcio io credo che tutti possano dire qualcosa anche perché tu che mi dici parla di Formula 1 cosa ne sai di calcio e tu cosa ne sai di televisione perché mi dici che non posso parlare di calcio cosa fai tu nella vita per dirmi che non posso parlare di calcio quindi volendo però è tutto un grande gioco a volte bello a volte divertente a volte no l'avvento di Liberty Media di Bagano Park sì 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 gli americani americani hanno il concetto dell'arena per loro lo sport è l'arena lo vedete con l'NBA con il draft con il loro modo è quello di cercare di mettere tutti nelle condizioni e poter vincere nelle gare americane nella IndyCar o nella NASCAR anche l'ultimo adesso l'ultimo forse no però la 500 in Indianapolis anche chi parte ultimo se ha una macchina decente può pensare di vincere la 500 media di Indianapolis quindi è un po' l'arena i leoni dentro tutti nelle condizioni di poter vincere hanno preso uno sport però che ha un DNA diverso che è quello che è vissuto sempre su chi ha lavorato meglio tecnicamente rispetto agli altri anche queste macchine nuove che hanno introdotto il regolamento introdotto nuovo è fatto per avere un maggior livellamento e questo livellamento poi alla fine vedi che Red Bull dà lo strappo quindi c'è sempre il genio dell'uomo o comunque dell'uomo che utilizza i computer che va oltre all'idea di adesso li appiattiamo tutti togli la Red Bull l'obiettivo è centrato perché gli altri sono lì a massacrarsi tra di loro una volta una volta l'altra una volta quindi quello è un po' l'obiettivo cercando di mantenere il DNA della tecnologia non dimenticando ragazzi per far andare due macchine per far andare due macchine lavorano 600 ingegneri 600 ingegneri noi guardiamo le macchine che corrono ma ci sono 600 ingegneri ce ne sono 100 che lavorano su come sviluppare la parte anteriore della monoposto 200 che lavorano sui motori 200 persone 200 ingegneri perché? perché c'è quello che deve calcolare la quantità di alluminio da unire insieme al carbonio rispettando la regola che vuole che 0-12 quindi è veramente un mondo molto complesso che è diventato sempre più complesso dovrebbero rendere le regole un po' più chiare però poi se lì nel contrasto del DNA della Formula 1 o volere ma non lo show lo spettacolo ma volere una competizione pari per tutti i 20 piloti tutti i 20 piloti possano vincere forse la ragione ebriatore basterebbe prendere le macchie in Formula 2 che sono tutte uguali dipingerle con i colori delle squadre e provare si potrebbe anche provare a far delle gare così potrebbe essere divertente però poi non è Formula 1 però hanno portato un modo nuovo di vivere lo show l'intrattenimento intorno molti dicono ah troppo intrattenimento che si pensasse alla pista ma sono due cose parallele non è che una fa male all'altra la pista ci pensa qualcuno e l'intrattenimento se è più bello l'intrattenimento della Formula 1 vuol dire che hanno lavorato meglio quello che è stato messo a creare l'intrattenimento se tu vai a Austin e paghi come paghi 350-400 euro per entrare però hai una giornata intera e alla sera c'hai il concerto di Eminem la tua giornata te la fai adesso in chiusura della Masterclass si sfideranno Stefano e Carlo Vanzini partiamo subito con la prima domanda qual è stata la prima scuderia in Formula 1 di Charles Leclerc Alfa Romeo un applauso sul tempo cos'è Lalo protezione per i piloti sulla macchina un girello con l'infradito qual è il circuito chiamato il tempio della velocità Monza è qui e qua vuoi fareggiare ah vabbè allora vado sarei una domanda quanti piloti non europei ci sono nella F1 2023 prima lui allora eh allora Ferrari europei Mercedes europei Pérez 1 poi gli alpinci e gli europei poi Raston Martin c'ha Stroll quindi siamo a 2 dopodiché l'Alfa Romeo c'ha Joe e siamo a 3 basta l'Alfa Tauri Debris e siamo a 4 no non c'è il tempo dopodiché la Williams c'ha Albon 5 Sargent 6 dopodiché la McLaren c'ha Piastri 7 e no ma non ho finito vabbè allora dico 8 erano 7 7 ma mancavano alcune scuderie quindi ho provato ad aggiungere però non vale mi mettete pressione così va bene io glielo do buona possiamo fare un ticino vai questa è quella che vale tutto occhio perché lui ha tutte le statistiche allora siamo nel 2008 chi sorpassa Hamilton per vincere il mondiale all'ultima pulga Timo Glock l'austriaco che era sulla Honda se non sbaglio Hamilton sorpassa era sulla Toyota però chi mette nella situazione Hamilton di dover superare Timo Glock per vincere il mondiale la pioggia ah no la pioggia chi supera Hamilton mettendolo fuori dalla posizione per poter vincere il mondiale se non me la ricordo neanche io io mi ricordo che c'è fu un problema con la pioggia no che Hamilton aveva messo le gomme da pioggia e in realtà non aveva cominciato a piovere ha cominciato a piovere il penultimo giro no il terzo il penultimo giro e Hamilton tipo ha preso tre posizioni per l'ultimo giro tra cui l'ultimo Glock però non mi ricordo chi è che l'aveva superata Sebastian Vettel lo supera con allora la Toro Rosso ha vinto la prima gara della Toro Rosso e sua in carriera a Monza lo supera andando in salita mettendo fuori dalla se non ricordo male quinta posizione Hamilton e quindi in quel momento Massa grazie a Vettel diventa campione del mondo poi alla fine non era un doppiato era Glock non era un doppiato che potrebbe essere una sorta di rivincita per Hamilton quella con Verstappen nel 2008 all'ultima curva quando la Ferrari aveva già passato il traguardo supera e nel 2021 perde così insomma il karma il karma però devo essere onesto ha vinto lui chiudo qua con la mia prima sconfitta in un quiz sulla Formula 1 ma ci sta contro Carlo Vanzini e niente spero che il video vi sia piaciuto lasciate un like un commento attivate la campanellina per i prossimi video e per i nuovi ospiti da noi e da Carlo Vanzini è tutto ciao ciao ciao